ciao a tutti i ragazzi da marco e da paolo e da pakistano oggi siamo qui per recensirvi niente ma per raccontarvi una cosa che delle modifiche che verranno fatte finalmente possiamo fare un canale di recensione di sedie no ci dobbiamo mettere a norma con la nuova legge di youtube e quindi ci saranno alcuni cambiamenti abbiamo avuto alcune difficoltà con gli studi quindi adesso vietato ai minori di 18 esatto questo canale sarà improntato a solo i maggiorenni e poi e non potremo far più esibire nudo marco no ma io non sono mai appunto i video saranno gestiti in modo leggermente diverso cercheremo di mantenere i video almeno della domenica fissi poi al massimo se non ci sarà uno dei due per eventuali studio e esami o ci sarò io oggi sarà lui ci sarà lorenzo scusa perché non possiamo mettere un terzo tipo 20 minuti delle danzatrice chiamo il mio conquilino chiamiamo christian christian e niente ragazzi questo è tutto se ci saranno delle altre novità seguitici su instagram che lì le novità le faremo vedere subito prima no forse un cacchio forse faremo vedere forse e quindi seguitici su instagram per vedere le varie novità e basta basta cazzo 130 ma basta grazie e ragazzi tre il numero perfetto il tre illuminati crew ciao ciao ragazzi